Se i primi dati raccolti dall'ARPA Campania per valutare gli effetti ambientali dell'incendio nell'area militare di Persano non indicano criticità e non risultano superati i limiti per quanto riguarda le concentrazioni di ossidi di azoto, benzene, particolato PM10 e PM2.5, monossido di carbonio e di doggeno solforato, sprigionati dall'incendio di Vampato martedì scorso nel territorio di Serre, i residenti delle aree circostanti continuano invece a lamentare odori nauseabondi e miasmi insopportabili, specialmente nelle ore notturne. Mentre ancora vanno avanti le operazioni di spegnimento, la procura di Salerno ha aperto un'inchiesta per accertare l'eventuale natura dolosa dell'incendio scoppiato nel comprensorio militare di Persano che ha mandato in fumo 6.000 tonnellate di ecoballe tra rifiuti tunisini ed altro materiale, spingendo l'ARPA Campania ora di intensificare le attività di monitoraggio ambientale con l'attivazione di un laboratorio mobile per il monitoraggio continuo della qualità dell'aria in località Falagato di Altavilla Silentine, due campionatori per il rilevamento di particolato di ossine e furani, uno all'interno dell'area militare e l'altro in località Borgo Carilia del comune di Serre. Si attende ora che l'aria possa essere messa in sicurezza per procedere in maniera approfondita a compiere le ispezioni per valutare le cause e l'ipotesi d'olo per il vasto incendio. Un massiccio impegno per coordinare tutte le operazioni, per tutelare la salute dei cittadini, impegno ribadito ancora ieri pomeriggio nel corso del secondo tavolo tecnico presso la prefettura di Salerno a cui hanno partecipato con il prefetto Francesco Esposito i sindaci dei comuni di Serre, Battipaglia, Eboli, Campania, Postiglione, Contursi Terme, Albanella ed Altavilla Silentina. Si sta procedendo alle operazioni di spegnimento di un quantitativo che conoscete è abbastanza rilevante di rifiuti e che in questa fase bisogna procedere prima a mettere in sicurezza e poi dopo a sversare materiali inerte in modo tale che si possa definitivamente porre fine non solo all'incendio ma anche all'immissione nell'aria di fumo che poi è la cosa che in questo momento preoccupa di più. Io credo che sulla natura del rogo dell'incendio debba essere l'autorità giudiziaria a fare le proprie indagini e quindi poi successivamente le proprie valutazioni e lo potrà fare a mio giudizio soltanto quando saranno compiute le operazioni di spegnimento e si potrà vedere quali sono i punti di innesco e anche la natura stessa del materiale incendiato altrimenti diventa difficile. Così come a valle delle operazioni di spegnimento si potrà procedere a prelevare dei campioni per verificare poi qual è la condizione di inquinamento che eventualmente ha interessato l'area che al momento non è assolutamente testabile, c'è bisogno di andare per gradi e di compiere prima le operazioni di spegnimento e poi tutte le altre operazioni che servono per ritornare all'ordinarietà e eventualmente per accertare la natura dell'incendio e del rogo. L'incendio nell'area militare di Persano ha spinto ieri pomeriggio ancora una volta i sindaci a tenere alta l'attenzione per quel che riguarda gli aspetti ambientali, priorità assoluta per tutelare la salute dei cittadini. Noi abbiamo fatto una riunione con tutti i sindaci e abbiamo condiviso anche una linea strategica, i sindaci sanno benissimo che ci sono degli step da osservare così come sanno che l'attenzione è massima da parte della prefettura così come da parte di tutte le altre istituzioni che stanno intervenendo, la regione che ha dato grande disponibilità ma le stesse amministrazioni comunali. Vorrei ricordare che i sindaci sono autorità sanitarie e autorità locali di protezione civile per cui stiamo lavorando tutti insieme in squadra per cercare di ottenere il miglior risultato possibile nel più breve tempo possibile, ma certamente la situazione fin dall'inizio ha presentato una terza complessità e con questa complessità naturalmente bisogna fare i conti.